Dalla prossima? È già ora? Dalla prossima? Cos'è? Locate Varesino? Perché vedo il giallo? Contro? Contro il verde, il Venegono. Ah, il Venegono. Io non ho il giallo perché non mi hanno trovato la taglia. Ah, beh però ho visto il giallo e allora ho detto... Stai a vedere, stai a vedere. Sì, sì, ma lo so che è locato. Opla. Buonasera, il suo signore. È Venegono? Venegono? No, è Venegono. Ah, ecco, vedi che c'è il verde. Quindi un giallo, un verde, rappresentare le squadre? Ci sono. Riscaldamento o subito? Subito. Faccio subito. Non deve essere l'ora, poi. Depende quanto ti interi. Sì, non è il tuo. Sì, non è il tuo. Sì, non è il tuo. 1 a 0 1 a 0 2 a 0 1 a 0 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 6-3 6-3 6-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 9-4 9-4 9-4 10-4 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 11-4 10-4 10-4 10-4 10-4 12 a 4 12 a 4 13 a 4 13 a 5 13 a 5 14 14 15 15 15 16 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 17 16 15 a 5 16 a 5 16 a 5 16 a 5 16 a 5 17 a 5 18 a 5 19 a 5 19 a 6 19 a 6 20 a 6 21 a 6 19 a 6 19 a 6 20 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 a 6 21 a 7 21 a 8 21 a 9 21 a 9 21 a 9 22 a 10 21 a 10 23 a 10